di quel latte che rimane la ricotta ah quindi quello lì è formaggio e con questa la ricotta hai capito io pensavo che già quella era la ricotta siamo cittadini ah, qualcuno che ricotta allora perché ricotta la ricotta la ricotta Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.